Bene ragazzi, allora iniziamo a parlare dei due romanzi più famosi di Pirandello, il fu Mattia Pascal che è del 1904 e uno, nessuno e centomila che è del 1925-26 e l'ultimo romanzo di Pirandello, i due romanzi più famosi, più emblematici della produzione pirandelliana, anche se Pirandello scriste in tutto sette romanzi, il primo fu l'esclusa che è del 95 e l'ultimo appunto è uno, nessuno e centomila. Però mettiamoli anche a confronto con il romanzo verista perché Pirandello inaugura anche un nuovo modo di scrivere il romanzo, di scrivere una storia che è un modo, diciamo, che poi diventerà tipico del romanzo del Novecento. Allora, dunque, concentriamoci ora sul fu Mattia Pascal. Allora, se noi facciamo il confronto tra il romanzo verista e il fu Mattia Pascal, cosa dobbiamo dire? Allora, come sapete, nel romanzo verista c'è un narratore popolare, anonimo, omodiegetico, che racconta in terza persona. Va bene? Nel fu Mattia Pascal, come anche in Uno, Nessuno e Centomila, invece il narratore è autodiegetico perché è lo stesso protagonista della storia, appunto Mattia Pascal stesso o in Uno, Nessuno e Centomila, Vitangelo Muscard, che racconta in prima persona. Allora, nel fu Mattia Pascal, praticamente Mattia Pascal racconta la sua storia perché è una storia strana, insolita, sotto forma di memoriale dopo averla vissuta e quindi con una narrazione retrospettiva, cioè in flashback. Allora, per quanto riguarda la vicenda, come sapete, il romanzo verista si concentra su una vicenda che è tipica, che rappresenta un'epoca o un ambiente sociale. Ricordiamoci Zola che racconta la Parigi del tempo, soprattutto il proletariato e invece Verga si concentra sui contadini, sugli ultimi, diciamo, subinti della Sicilia, quindi diciamo ambiente agricolo, contadini, pescatori, minatori, va bene. Invece, invece qui abbiamo una vicenda strana e insolita che racconta appunto le avventure di questo Mattia Pascal. L'unica cosa che c'è in comune e che poi invece non troviamo in uno nessuno e centomila che c'è in comune con il romanzo verista è la linea temporale, che comunque è una linea temporale cronologica, cioè la storia, almeno nel fu Mattia Pascal, viene raccontata secondo la fabula, quindi secondo un ordine cronologico, come nei romanzi veristi. Allora, la vicenda è talmente strana e insolita, quella di Mattia Pascal, che lo stesso Pirandello venne accusato di inverosimiglianza per la sua storia e a questa accusa di inverosimiglianza Pirandello risponde in una prefazione a romanzo che si era ispirato ad una vicenda che aveva letto sul Corriere della Sera qualche anno prima. Una storia simile a quella, diciamo, del suo protagonista. Tanto a dire che spesse volte la realtà, con la sua imprevedibilità, supera anche la fantasia più fervida. E allora, detto questo, se nel romanzo verista c'è il principio della verosimiglianza, nel romanzo di Pirandello c'è il rifiuto del canone della verosimiglianza, perché Pirandello vuole rappresentare l'assurdità della vita, il caos della vita. Vi ricordate, ne abbiamo parlato anche per le novelle per un anno. Ecco, la concezione che ha Pirandello della realtà come perpetuo di venire e di una realtà caotica, spesso inspiegabile. Ma infatti se nel romanzo verista tutto avviene secondo un principio deterministico di casualità, quindi le vicende seguono, diciamo, l'ordine di causa ed effetto. Qui, ecco, nel fu Mattia Pascal non c'è causa ed effetto, ma è il caos, l'unico motore della vicenda. Cioè, tutto avviene per caso. Va bene, ora lo vediamo, diciamo, spiegandovi, raccontandovi la storia, lo capite subito. E quindi, allora, se nel romanzo verista viene data importanza alle azioni del personaggio e alle parole del personaggio e ai fatti, diciamo, che concorrono nella storia, qui diciamo che più che le azioni, più che le vicende, anche se nel fu Mattia Pascal ci sono i fatti, mentre in Uno e nessuno e centomila non ci sono neanche quelli, ecco, diciamo che sulla narrazione prevale l'argomentazione, perché il fu Mattia Pascal, come anche Uno e nessuno e centomila, è un romanzo a tesi. E qual è la tesi? Quella che Copernico ci ha rovinati, ora la spieghiamo. E se quindi nel romanzo verista il punto di vista è oggettivo e attendibile, perché il narratore è uno scienziato, no? Quindi racconta con l'oggettività dello scienziato, qui abbiamo un punto di vista soggettivo e inattendibile che è quello di Mattia Pascal, praticamente. Se abbiamo un personaggio che è anche narratore della sua storia, naturalmente tutto viene raccontato dal punto di vista soggettivo di Mattia Pascal, che non sappiamo se sia la verità, perché noi abbiamo la campana di Mattia Pascal, però non sappiamo se è la verità o è solo, sicuramente è solo il punto di vista di Mattia Pascal, quindi è un punto di vista soggettivo, quindi ecco, punto interrogativo su quello che lui racconta, va bene? È comunque inattendibile. Allora, qual è la storia? Qual è la storia? Allora, è anche lui, si trova anche lui, tra l'altro abita in un paesino della Liguria inventato da Pirandello, si chiama Miragno, questo paesino, è anche lui un inetto, una vittima, perché vive nella trappola, nella trappola della famiglia e del lavoro. L'inizio è l'inizio tipico della trappola, perché Mattia Pascal è stato costretto a sposare una ragazza, perché diciamo, questa è rimasta incinta, e diciamo, certo il suo non è un matrimonio felice, perché è costretto a, diciamo, sopportare le lamentele della moglie, soprattutto della suocera odiosa, perché gli rimprovera sempre il fatto che lui, ecco, è un inetto, perché non guadagna abbastanza. Infatti, Mattia Pascal fa un mestiere, quello del bibliotecario, nel in questo piccolo paesino, ecco, in una biblioteca dove, diciamo, ci vanno soli topi, ecco, quindi un mestiere, diciamo, noioso, ecco, un mestiere che non lo soddisfa né, diciamo, personalmente né economicamente. Infatti, appunto, la moglie e la suocera gli rimproverano di essere un fallito. Un giorno, dopo l'ennesima litigata in famiglia, Mattia Pascal, stufo, ormai, e non ce la fa più, ecco, decide di lasciare, di andare via, di fuggire, decide quindi di fuggire dalla trappola, anzi, il suo proposito è quello di andarsene in America. Poi, durante il viaggio, si ferma a Monte Carlo e qui gioca, così, per curiosità, gioca al casino di Monte Carlo. Ecco, avviene per caso che al casino vince, va bene, la roulette lo favorisce. Così, ecco, vedete, infatti, il casino con la roulette, che sapete, e riene va più, cioè, la ruota gira e gira a caso, va bene, ecco la ruota della fortuna, lo bacia. E quindi, lui vince una bella somma, una somma che, diciamo, gli consente per tutta la vita di vivere di rendita lui e la sua famiglia. Allora, a questo punto, decide di ritornare, no, è contento, ecco, decide di ritornare, ecco, per sbattere in faccia questi soldi alla moglie e alla suocera. Dice, così, non mi diranno più che sono un fallito. Però, cosa succede? Mentre si trova in treno durante il viaggio di ritorno, compra il giornale e così, per caso, ecco, perché poteva anche non comprarlo il giornale, legge sul giornale che lui è morto. Cioè, che cosa era successo? Era successo che era stato trovato il cadavere di un uomo e lui mancava già da almeno una settimana da casa, quindi una settimana, dieci giorni, e era stato trovato il cadavere di un uomo della stessa statura e della stessa età di Mattia Pascal, vestito bene o male allo stesso modo. E siccome il cadavere era in avanzato stato di decomposizione e siccome Mattia Pascal mancava da un bel po' di giorni, e quindi questo cadavere era stato riconosciuto dalla moglie e dalla suocera. E quindi, ecco, Mattia apprende che è morto. Ecco, a questo punto, ecco, se il caso lo ha favorito, gli viene l'idea di fingersi morto veramente e di inventarsi una nuova identità. E quindi di fuggire proprio definitivamente dalla trappola, cambiare vita, cambiare il nome, si chiamerà Derano Mace, cambierà anche l'aspetto fisico, si farà accrescere i capelli, i baffi, si farà, anzi si taglierà i baffi, scusatemi, si farà sistemare l'occhio strappico, ecco, e quindi ecco, si rega a Roma, qui prende in affitto un appartamento, e vivrà, tanto aveva i soldi per vivere di rendita, come Adriano Mace. Però, dopo un anno e più di questa vita, ecco, Mattia Pascal si rende conto che non esiste, non esiste per la società, perché in effetti, ecco, non c'è nessun documento che attesti l'esistenza di questo Adriano Mace, no? Quindi, se, ecco, non può fare nulla praticamente, non può, diciamo, lavorare, non può sposarsi, perché nel frattempo si era innamorato della figlia del suo padrone di casa, che si chiamava Adriana, come lui, non può addirittura denunciare un furto quando gli rubano i portafogli, perché, come fa a denunciare, non può prendersi manco un cane, e allora, a questo punto, stanco di questa situazione, stanco di vivere nella menzogna, decide di ritornare alla sua vecchia identità. Quindi, dopo più di un anno, ritorna a Milagno. Ma qui, ormai, lui è morto. È morto agli occhi di tutti, perché la moglie si è ricostruita una vita e si è sposata con il suo migliore amico e ha anche un bambino. Gli amici lo guardano come se fosse morto, perché ormai si erano abituati al fatto che era morto, e quindi a questo punto, ecco, Mattia Pascal decide di vivere al di fuori della società, come un forestiere della vita. Si, diciamo, riprende il lavoro di bibliotecario, perché quello non glielo toglieva nessuno, in quanto quel lavoro non lo voleva nessuno, e vivrà, ecco, come fu Mattia Pascal. Infatti, il brano che conclude il romanzo, appunto, nel brano in cui, diciamo, si conclude il romanzo, Mattia Pascal dirà, io sono un fu Mattia Pascal e ogni tanto porto i fiori sulla mia tomba. Va bene? Quindi, ecco, questa è la storia incredibile, assurda. Ecco, vedete, il modo di raccontare è diverso. Come tecnica narrativa, lì nel romanzo verista abbiamo la tecnica dell'impersonalità, no? Con l'eclisse dell'autore. Qui, invece, abbiamo un personaggio, Mattia Pascal, che è il protagonista e che è anche il narratore, no? Che si va a portavoce dell'autore, perché tramite, appunto, i suoi commenti, le sue interpretazioni, esprime il punto di vista dell'autore, cioè di Pirandello. E tra l'altro abbiamo questa forma di dialettica, perché spesso Mattia Pascal, cioè questo personaggio che è anche narratore, dialoga con il lettore, va bene? Anche in maniera scherzosa, perché abbiamo l'umorismo pirandelliano. Quindi, ecco, vi lascio con questo, perché poi, ecco, nell'altro video parleremo dell'altro romanzo e faremo il confronto col fu Mattia Pascal. Ecco, se la storia avviene in maniera caotica, perché vedete tutte le vicende praticamente sono imprevedibili, tutto avviene per caso. Ecco, significa che l'uomo non può controllare quello che accade, no? Significa che noi non possiamo controllare la realtà. Per cui la corpa è di Copernico, scrive Mattia Pascal all'inizio del romanzo. Poi vi spiego perché.